Siamo nel fantastico mondo degli Avengers, i grandissimi supereroi, perché lei è Daniela e interpreta Lady Loki. Grazie per la visione! E l'applauso alla nostra super Lady Loki! Vieni qui con me Lady Loki, un original. Attenzione per sua pelliccia, te la raccolgo io. 30 kg di pelliccia, è stato maltrattato qualche animale, i miei capelli sono, sì. Qualche domanda alla nostra giuria? Allora, siccome da quando avessimo venire benissimo, ci domandiamo se effettivamente abbiamo visto la lucina accesa. C'è la lucina accesa, dice? Sì. Adesso un'altra domanda. Comunque prima di approbbi quanti verso il tavolo della giuria, io vorrei far salire per una bellissima foto di coppia, perché oggi ci sta veramente. Quindi chiederei di mettervi al centro del palco con Loki e Lady Loki. Loki versione estiva. Si è tolto alcuni pezzi, perché lei invece ha abito pesante, pelliccia di marmotte, non è vero. È la versione figlia di papà, non è la versione estiva. Versione giovane universitario. Prego, si accomodi pure Lady Loki verso la nostra giuria.